Bentornati a Quella Zampa, li amiamo terribilmente perché ci danno tutto e non chiedono nulla. Oggi vi racconto una storia, anzi più di una storia, sono in compagnia di Alessandra e soprattutto di Nonna Iside che ormai tutti conosciamo per l'avventura incredibile che ha vissuto. Com'è andata alla fine? Bene? È andata benissimo alla fine. Nonna Iside, che io ho adottato tre mesi fa, si è persa nei boschi della Slovenia per quasi 12 giorni. Nonna Iside ha 15 anni, sorda e cecca. Oggi l'abbiamo portata per invogliare un po' le persone ad aprire le loro case, il loro cuore ai cagnolini anziani perché ce ne sono tantissimi che aspettano una famiglia e per dimostrare che hanno ancora tantissime cose da dare. Al punto da fare decine di chilometri in giorni senza acqua, senza niente, poi questa è una storia incredibile perché eravamo tutti col fiore. Una storia incredibile e io voglio ringraziare ancora tutte le persone che mi hanno aiutato perché abbiamo fatto di tutto per ritrovarla. Cani molecolari, telecamere notturne, telecamere a calore, tantissime persone sono venute ad aiutarmi, quasi in 40 eravamo a cercarla. E poi abbiamo scoperto che invece questa nonnina aveva fatto il suo viaggio della vita. Cioè lei aveva camminato per dieci giorni nei boschi della Slovenia, fortunatamente fino ad arrivare ad una casa dove è stata riconosciuta perché noi avevamo fatto una pubblicità grandissima per ritrovarla. Ecco, lei quindi ha testimonianza per tutti gli altri che sono con lei e chi sono questi nonnini? Allora, questi sono nonnini che arrivano tutti da situazioni diverse e da regioni diverse dell'Italia. Non è Isida e viene da Sarno. Dopo abbiamo Annalina che viene da Napoli. Annalina, per esempio, ha la lesmania. Io le ho portate a testimonianza per far vedere alle persone che la lesmania in realtà è una malattia cronica che si cura con una cura economica, la cura mensile è 2 euro e hanno tantissime cose ancora da dare. E poi quest'altra, la nera, viene invece da Cosenza e lei si chiama Cecilia, ha 13 anni. Sono state tutte adottate da uno, due anni e hanno passato tutta la loro vita nei canili. E ce ne sono tantissime. E hanno un'infinità d'amore da dare. Beh, tu sei una testimonia vivente delle adozioni dei casi disperati anziani. Guarda, io ormai da anni facendo il volontariato sono entrata in questo campo e insieme all'altra volontaria, Antonella Abitetto di Zampa, abbiamo preso a cuore i nonnini. Anche perché in realtà abbiamo visto che veramente chiedono molto poco. E a tutti i nostri adottanti che dopo hanno preso un nonnino in stallo, l'hanno adottato. Quindi un motivo c'è. Quindi non vi chiedo neanche adottate, stallate, stallate, stallate e ridate dignità a queste vite che non hanno avuto niente. Nonna Isita è stata 15 anni in un box di cemento e adesso finalmente ha la vita che merita di avere. Ale, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio voi per l'ascolto. Quale zampa! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!